Questa sera parliamo ancora di sport e parliamo segnatamente di rugby, mia vecchia passione, con il presidente ex giocatore del Ragusa Rugby Union, ovvero sia Erman Di Natale. Non ne parliamo tanto per un discorso relativo al passato o al futuro, che comunque accenneremo, quanto per un avvenimento che è in programma dopo domani sera, venerdì, credo dalle 18.30, che è il memorial Fiorilla-Guastella. Fiorilla-Guastella. Ecco, stavo pensando quale mette prima Fiorilla, perché prima era solo Fiorilla. No, prima era solo Fiorilla. Stefano era più. Allora, raccontiamo un po' cos'è questo memorial e soprattutto che cosa si prefigge. Il memorial Fiorilla-Stefano-Guastella-Giuseppe è un memorial dedicato a loro, ovviamente, che sono venuti meno qualche anno fa, come ex giocatori ovviamente di rugby, per cui li ricordiamo… Questo di Stefano anche come presidente. Stefano anche fu presidente, ovviamente, e quindi li ricordiamo non solo in questo momento, ovviamente, ma li ricordiamo sempre. Noi ricordiamo tutti quelli che hanno calcato il campo di rugby, ovviamente, sia che ci sono oggi giorno e quelli che non ci sono più. E quindi questo memorial dedicato a loro si svolgerà venerdì, questo venerdì, prossimo dalle 18.30, con un programma allestito. La prima parte sarà dedicata a tutti quei ragazzi che non hanno giocato nei vari anni, che si stanno di nuovo riappropriando del campo di rugby, come dire, calcandolo e quindi riappropriarsi proprio della propria voglia di ritornare al campo, di giocare, quindi non c'è età lì in quel momento, per cui è un momento così di ameno, di ritrovo per tutti coloro che vogliono riavvicinarsi. Questo all'inizio. Sì, questo all'inizio, poi ci sarà un momento dedicato proprio alla cerimonia, ovviamente. Quindi con i familiari, eccetera. Quindi ricordo di appunto Stefano e Giuseppe e poi ci sarà il famoso terzo tempo, tutti assieme a mangiare goliardicamente, a bere con birra obbligatoria. Con birra obbligatoria, ovviamente. E non verrà che pesare. La prima è la birra e poi i panini. Allora, intanto vediamo questa splendida immagine del campo. Ieri mi hanno detto, no ieri, vantieri, lunedì, mi raccontavano e l'ho appreso con molto piacere i dirigenti del Reusa Calcio che inizieranno la preparazione da voi e questo si riallaccia al mio discorso sempre antico, proprio dai tempi io, 50 anni fa, ormai passa quando ho avuto l'onore di essere stato per due anni presidente, che tutte le società sportive della città dovrebbero essere un gruppo comune. Assolutamente, assolutamente sì. Ma noi ci stiamo lavorando su questo progetto con il nome proprio di questo progetto che a Ragusa si può fare. Si, si deve. Si può fare, abbiamo creato un gruppo, ti anticipo questa cosa qui, che è stato carino, diciamo già abbiamo avuto i primi contatti, le prime adesioni e credo che a settembre a settembre faremo la prima edizione di questa cosa laddove ci saranno tutti gli sport di Ragusa al campo da rugby che porteranno i loro, diciamo, atleti, le loro atlete eccetera con le loro discipline e poi ci interscambieranno. Tutti compresi Pallacanestro, tutti, tutti, noi abbiamo invitato tutti, tutto lo sport ragusano e quindi molti hanno aderito. Ragazzi abbiamo una squadra in B maschile di Pallacanestro, una squadra in B, una squadra in B, i ragazzi del loghi. Il nostro sponso è questo qua, a Ragusa si può fare caro Gianni, quindi io ci credo come ci ho creduto io da giocatore, da presidente, da atlete eccetera, ci hanno creduto anche gli altri dirigenti. Quindi finora hai avuto risposte positive, assolutamente sì, ma sarebbe bellissimo. E quindi creare su questa struttura appunto che il campo, come dicevi tu, che noi la offriamo non è solo rugby, noi, come dire, mi posso perdere? Vogliamo rifarlo vedere un attimo dall'altro? Offrirla, ma è il comune che la offre ovviamente perché noi non siamo padroni di niente, ovviamente quindi il comune è un bellissimo stadio. Abbiamo messo mezzo secolo, ma è un fiorallocchiello per la comunità iblea sicuramente, per cui per noi è un pregio veramente che sia calcato da tutti gli altri sport che si possono fare in questo campo. Allora, al dire di che, adesso brevemente, prima altre due solo parole sul, ricordiamo Stefano, giocatore, uno dei primi, primo a vincere i miei tempi del presidente il campionato in serie C, poi presidente, e il ragazzo Peppe Guastella è stato giocatore? È stato giocatore, è stato mio capitano e già io negli anni 80 lui giocava perché mi ricordo che lui fu il mio primo allenatore, io quando iniziai in under 13, che avevo appena 12 anni, diciamo, 12-11 anni, così, lui fu il mio primo allenatore, devo dire, devo ricordarlo, ovviamente, ma per carità, e quindi fu lui che mi accompagnò con la manina all'inserimento nel rugby, e allora, c'è una cosa, una cosa però che credo potrebbe essere il memoria, credo tra l'altro sarà la sesta, settimana, forse anche di più, è una cosa della quale sono stato sempre un po' fissato forse, penso che sia ora di intitolare il campo e sicuramente io sono per Stefano Fiorino, non può essere il campo del rugby, no, deve avere un nome. No, certo, sicuramente il campo dovrà avere un nome, noi non lo abbiamo fatto questo passo, ti ripeto, perché… Vabbè, ora il campo è campo. Adesso il campo è campo, quindi credo che si prenda… Cominciate a muovere i passi a giocare questo… Si, si capano gli occhi su questa cosa per decidere, diciamo, a chi intitolare il campo, per me potrebbe essere un nome. Comunque io penso che Stefano possa essere chiaramente in full position. Sì, poi ti darò pure una chicca, una piccola chicca, in quella serata… Non gli toccare il filo del microfono, se no, amare… In quella serata ci saranno un'altra cosa che non posso qui svelare, ma se tu verrai, diciamo, in quella… Compatibilmente con gli impedi… E scoprirai questa chicca che si riallaccia alla dedica del campo, comunque. Eh beh, questa è una cosa bella, molto importante, perché vedete… Al di là delle parole, perché io capisco che ci può essere tutta la retorica che volete, però vi posso garantire che chiunque abbia fatto il rugby, come giocatore pessimo, o come credo decente presidente io, e che ne continui a parlare ormai da 50 anni come giornalista, è sempre qualcosa che ti rimane dentro. Allora, questo deve servire… L'esempio delle persone che tu dici sono andate e stanno tornando e quello… Sì. la tua e le altre, questo deve essere veramente da collante, da cemento, proprio per cementare questa struttura, questo sport e far sì che veramente si avvalori ancora di più il senso del rugby e dello sport in Ragusa, perché noi meritiamo di più, credimi Gianni, meritiamo di più, noi per la federazione siamo un fiore all'occhiello al sud, però non riusciamo a decollare… Noi meritiamo di più, però onestamente, Ervante, tu lo sai che io credo che pochi abbiano cercato di lavorare per i raghi come me, però tu sai anche che sono… ho sempre cercato di vedere le cose con un po' di acribia, è innegabile che io quest'anno sono venuto una volta solo, è innegabile che in una società nella quale sono passati in 53-54 anni di vita, voglio dire poco, un migliaio, sono molti di più, tra uomini e donne, che al campo ci siano 4 ex giocatori che sono sempre quelli, 2-3 amiche dei ragazzi, due o tre che vengono a raggi perché può ancora fare figo a portare il cane, una serie di mamme che è bellissimo, però sinceramente che… vabbè, fanno chiaramente tifo solo per i loro figli, sono coreografiche, non so quanto… e poi zero, ed è assurdo, è assurdo come è assurdo che per, dico sempre, che per Passalacqua a Calatazzarai ci siano stati 600 persone, come è assurdo che, come parlavo con i ragazzi di Ragusa, che ci siano quest'anno un po' di più, ma la media c'è stata di 200 spettatori, l'anno prossimo sperano di portarla almeno 500, ma ci rendiamo… abbiamo impianti splendidi, ragazzi. Esatto, esatto, dobbiamo lavorare su questo genere, è la realtà. Il rugby in particolare, proprio perché il rugby è la passione… Un buon seguito, diciamo, ma non è tanto, però a noi ci fa onore, ci fa piacere vedere queste persone al campo, ovviamente, ma noi speriamo che, come dire, aumenti questo numero, ma non perché è il numero che ti fa… ma è perché la gente deve capire che c'è, a Ragusa esiste uno sport di valore, quindi deve essere così. Andiamo a chiudere con due minuti, l'anno prossimo non rifaremo la Serie B? Allora, la nostra intenzione è sicuramente fare la Serie B, ci mancherebbe. Quest'anno si è centrato la vittoria, non ci speravo, è già stato un buon risultato. Ma noi quest'anno, anche se non ci fossero state… Cioè, non c'era una retrocessione, non capisco. Perché comunque siamo arrivati i penultimi e quindi… Ah, c'è stato uno che ha perso tutte le partite? Sì, sì, il Napoli è arrivato sotto di noi. Ah, addirittura. E noi, come dire, saremmo salvati… Comunque la vittoria è stata un bellissimo… Saremmo salvati lo stesso. L'anno prossimo sperate di recuperare qualche giocatore in più, qualche giocatore in cresce? Assolutamente, sì. E quindi la nostra intenzione è rifare il campionato di Serie B. Comunque se ne parlerà non prima di fine ottobre. Sì, fare il campionato… No, adesso ci siamo iscritti comunque. No, no, dico per l'inizio del campionato. Sì, certo, certo. Metà ottobre. Poi i campionati giovanili dove stiamo andando bene. Puoi fare il campionato giovanile. E i campionati femminili. E il campionato femminile, che ti do un'altra ricca, dovremmo fare la Serie A femminile. Bene, a questo punto ci siamo tirati 10-11 punti, possiamo chiudere. Allora ricordiamo Memorial Guastella-Fiorilla o Fiorilla-Guastella, dalle non alle, perché nel rugby le cose belle durano il suo tempo. Sì, assolutamente. Dalle 18.30 circa, al campo dell'Ena, al campo del Raghi, che può essere via dalla Costituzione. O via, o Piazza Politea. O via, tanto c'è tanto posto per festeggiare, non ci sono problemi. Occasione di ricordare con commozione e con affetto, occasione di trovarsi insieme, occasione di festeggiare, occasione di vivere il mondo particolare, molto imitato. Devo dire una bella cosa, ma lo stesso spirito non si può avere mai. Io ho trovato uno spirito simile, devo dirti, molto bello, nei ragazzi del hockey. È una cosa spettacolare. Ma sì, sono due cose complementarie. Ho avuto il piacere di andare con loro in panchina, due volte, la biglielocchista, guarda, è uno spirito molto vicino. Chiaramente quello è uno sport non di contatto, però è bene. No, ma sono due cose che in Argentina vanno a coppia, perché il hockey è frequentato dalle ragazze in Argentina, con i fidanzati che fanno rugby, è una coniugazione. Ebbene, tra l'altro l'Argentina c'è una squadra straordinaria, grande squadra. Ma poi noi ora all'Italia quest'anno, la vittoria in Galles con quella meta che è stata fatta vedere giustamente mille volte, può essere un buon segnale. Era fondamentale, perché veramente non si poteva continuare, bisognava mettere un punto fermo, è stato messo. Allora Erman, ricordo, venerdì dalle 18.30, Tadio di Via della Costituzione, chi vuole vedere com'è da vicino questo sport, chi vuole ricordare. Chi vuole divertirsi insieme agli amici ricordando, l'appuntamento è chiaramente aperto e libero a tutta, più saranno o più saremo, se posso, meglio è. Grazie Erman e complimenti. Buon anno. Arrivederci a tutti.